Il grido disperato di Alessandro Gassman, così non si può andare avanti, spunta un video che fa male. Alessandro Gassman e la sua denuncia, un video gli riporta alla mente dei ricordi che aveva celato. Ecco cosa rivela il famoso attore. Alessandro Gassman è un attore che da molti anni ormai, è sulla cresta dell'onda. Apprezzato da tutto il pubblico televisivo, che non manca mai a nessun appuntamento con uno dei suoi film. Una carriera lunga e piena di successi. Lui, figlio d'arte, suo papà era l'indimenticato e indimenticabile Vittorio Gassman, noto regista e attore degli anni settanta, Sex and Bow, ancora prima di suo figlio. Sì, perché sembra proprio che il fascino sia di famiglia in casa Gassman. Vittorio era osannato dalle donne, considerato uno degli attori più belli della sua epoca. Lo stesso si può dire di Alessandro e anche di Leo, figlio di quest'ultimo, che si divide tra la musica e la recitazione. Alessandro Gassman, classe 65, attore e regista italiano ha un notevole seguito. Il suo debutto? Quando aveva appena 17 anni e il padre decise di fargli interpretare un giovane se stesso nel film autobiografico di padre in figlio. Solo successivamente decide di studiare recitazione e possiamo dire che mai scelta fu più azzeccata per lui. Numerose le voci presenti sul suo curriculum, attore di cinema di fiction, film tv e anche di teatro, non si è fatto mancare proprio nulla. Attualmente i fan possono seguirlo su Rai 1 nella fiction un professore. Intanto però lancia dei messaggi sui suoi profili social. Alessandro Gassman e il suo grido disperato. Alessandro Gassman fa leva sul suo essere un attore molto apprezzato, un uomo di spettacolo che ha un notevole seguito sui social. L'attore difficilmente si lascia andare a dichiarazioni sulla sua vita privata, ma sulle sue pagine web spesso parla di problematiche quanto mai attuali. Questa volta lancia un grido di denuncia nei confronti della società attuale. Un messaggio, il suo, che dovrebbe proprio arrivare forte e chiaro, soprattutto alle attuali generazioni. L'attore preoccupato per l'ambiente. Alessandro Gassman utilizza il video di Earth Song di Michael Jackson per accendere la luce su un problema che negli ultimi anni ha bussato prepotentemente alla nostra porta. Ovvero quello della crisi climatica. Personaggi di spicco dello spettacolo lanciano i loro messaggi. Le attenzioni dei governi da tempo ormai si sono posate su questa problematica. Ma messaggi come quello di Alessandro Gassman aiuta ad avvicinare anche i giovani a quelli che sono i problemi del mondo.